piccola ripresa della nostra lezione che può essere molto utile ai colleghi per dare l'idea che riusciamo a interagire e riusciamo a lavorare. Andiamo avanti, congiuntivo esprime soggettività a quattro tempi. Vediamo, tra i tempi semplici abbiamo il presente e? Benissimo. Invece i tempi composti? Passato e tra. Prova a rileggere. Esprimete le vostre considerazioni sul momento di assoluta criticità che state vivendo, con particolare riferimento alle differenze tra le limitazioni dell'abitudine di vita di oggi rispetto agli anni. Perfetto, benissimo. Avete scritto tutti?